Cosa sai davvero su Melania Trump? È solo la first lady elegante e composta che conosciamo? O c'è di più nella sua storia di quanto sembri? Con la sua presenza enigmatica e il comportamento grazioso, Melania Trump è sempre stata una figura affascinante. Tuttavia, oltre all'apparenza, ci sono molti aspetti intriganti della sua vita che sono rimasti nascosti al pubblico. In questo video esploreremo dieci fatti meno noti su Melania Trump e sveleremo un lato di lei che potresti non aver mai visto prima. Iniziamo! Numero 10. Il matrimonio di Melania Trump è stato sontuoso. Nel mondo dei matrimoni lussuosi ed esclusivi, le nozze di Melania e Donald Trump sono un esempio di opulenza. La cerimonia si è svolta nella magnifica tenuta di Mar-a-Lago, un vasto e lussuoso rifugio immerso nei soleggiati dintorni di Palm Beach, in Florida. Questa grandiosa residenza, che riflette l'affinità di Donald Trump per il lusso, ha fornito lo sfondo perfetto per un matrimonio che ha catturato l'attenzione del mondo. La cerimonia è stata una fusione di potere e glamour, con una lista di invitati che includeva alcune delle personalità più influenti e rispettate della società. Tra i 350 ospiti di prestigio, c'era un ex candidato presidenziale, aggiungendo un tocco di prestigio politico all'evento. L'atmosfera era carica di eccitazione, mentre gli ospiti arrivavano, desiderosi di assistere all'unione di due personalità di alto profilo. Melania, la sposa radiante, emanava eleganza e grazia. Fece una dichiarazione di moda audace, con la scelta di un magnifico abito di Christian Dior. Questo non era un semplice vestito. Era un capolavoro del valore straordinario di 100.000 dollari, meticolosamente realizzato a mano e adornato con ben 1500 cristalli. La creazione di questo abito è stata un lavoro d'amore, richiedendo ben 550 ore di lavoro accurato, un vero testamento all'arte e alla dedizione dei designer. L'opulenza non si è fermata all'abbigliamento nuziale. L'anello di nozze di Melania era un capolavoro a parte, un brillante diamante taglio smeraldo da 12 carati della stimata casa Graff, valutato a un milione e mezzo di dollari. Questo anello non era solo un pezzo di gioielleria, era un simbolo di amore duraturo, meticolosamente realizzato per resistere alla prova del tempo. Il gruppo di nozze era una questione familiare, con la sorella di Melania, Ines, nel ruolo di damigella d'onore e i figli di Donald Trump, Donald Jr. ed Eric, come testimoni. La loro presenza ha aggiunto un tocco personale alla cerimonia, mescolando tradizione familiare con la grandiosità della giornata. Il matrimonio è stato uno spettacolo di celebrità e sofisticatezza, con luminari di diversi ambiti, supermodelle, magnati dei media e giganti dell'intrattenimento come Heidi Klum, Barbara Walters e Simon Cowell, che hanno contribuito al lustro dell'evento. La loro partecipazione era una prova dell'influenza della coppia e dell'alta considerazione in cui erano tenuti. Numero 9 Melania è la terza moglie di Donald Melania Trump è la terza moglie dell'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il suo ingresso nella vita di Donald ha segnato un nuovo capitolo nella sua storia matrimoniale. Prima che Melania arrivasse, Donald era stato sposato due volte. Il primo matrimonio era stato con Ivana Trump, un'unione che aveva portato alla nascita di tre figli. La loro vita insieme era molto pubblicizzata, soprattutto con la nascita dei loro tre bambini. Tuttavia, il loro matrimonio affrontò delle difficoltà quando emersero voci di infedeltà, portando a una separazione molto coperta dai media. La relazione di Donald con Marla Maples portò infine alla fine del suo primo matrimonio. Successivamente, Donald sposò Marla Maples. La loro storia d'amore si trasformò rapidamente in matrimonio e dalla loro unione nacque una figlia. Tuttavia, il loro legame non superò la prova del tempo e la coppia divorziò. Fu in questo periodo che Melania divenne una figura significativa nella vita di Donald. Con lei, Donald intraprese una relazione che alla fine portò al matrimonio, facendo di Melania la sua terza moglie. Questo matrimonio portò anche alla nascita di Baron Trump, il primo figlio di Melania, e il quinto di Donald, prolungando ulteriormente la discendenza della famiglia Trump. La relazione di Melania con Donald, come terza moglie nella sua vita, è unica a modo suo. Il loro percorso insieme è stato caratterizzato da sfide, successi e dalla responsabilità condivisa di crescere il loro bambino. Numero 8 Melania ha una laurea in design L'esperienza di Melania Trump nel design va oltre un semplice hobby. È una competenza di cui è orgogliosa, sostenuta dal suo conseguimento di una laurea nel campo. Il suo background nel design non è solo una qualifica su carta. È alla base della sua carriera di successo come designer per le lussuose proprietà associate al marchio Trump. Uno dei suoi progetti più noti è il penthouse su tre livelli situato sopra la residenza di Trump. Questo spazio è una vetrina della cume progettuale di Melania dove la sua visione creativa prende vita. Descrivendolo come il suo capolavoro, Melania ha infuso il penthouse con le sue uniche sensibilità estetiche. Il risultato è una spettacolare esposizione di opulenza con marmo pregiato e accenti in oro 24 carati che aggiungono alla sua grandiosità. Lo spazio non emana solo ricchezza, racconta una storia di artigianato meticoloso e apprezzamento per l'eleganza senza tempo. In questo rifugio di lusso c'è un'area distintiva che ha un tocco diverso, la camera personale di suo figlio, Barron. L'approccio di Melania a questo spazio è collaborativo, riflettendo sia l'individualità di Barron sia il suo rispetto per la sua autonomia. Rappresenta un testamento all'amore materno e alla cura per l'indipendenza del figlio all'interno del loro opulento rifugio. L'influenza di Melania si estende oltre la loro residenza privata al portafoglio Trump più ampio. Le sue sensibilità nel design sono richieste per gli interni delle stanze d'albergo di Donald e dei vasti resort a nome Trump. Il suo ruolo va oltre la semplice consulenza. È essenziale nella creazione di spazi che uniscono comodità e lusso, offrendo un'esperienza piuttosto che un semplice luogo dove soggiornare. La laurea di Melania in design non solo ha convalidato la sua competenza, ma le ha anche fornito la base per lasciare un'impronta indelebile nel mondo del lusso e dell'estetica. Numero 7 Ha un fratellastro segreto Nella complessa trama della storia familiare di Melania Trump, un filo di segretezza è stato svelato, aggiungendo una nuova dimensione alla sua già affascinante biografia. Si scopre che suo padre, Victor Knavs, un uomo noto per i suoi valori tradizionali e il forte etica del lavoro, nascondeva un segreto che era rimasto celato per anni. La vita di Victor, prima di sposare la madre di Melania, Amalia, includeva la paternità di un figlio, un fratellastro di Melania, la cui esistenza era rimasta nascosta. La rivelazione di questa relazione clandestina ha scioccato i media, portando alla luce gli affari privati della famiglia Trump. Inizialmente, Melania ha smentito queste affermazioni, liquidandole come voci infondate. Tuttavia, la situazione si è complicata quando sono emersi documenti giudiziari che fornivano prove sostanziali dell'esistenza del suo fratellastro. Questa rivelazione ha costretto a una rivalutazione della verità e ha richiesto un cambiamento nella narrazione di Melania. Confrontata con prove inconfutabili, Melania ha ricalibrato la sua storia. Ha ammesso di aver frainteso nella sua risposta iniziale e ha riconosciuto l'esistenza del suo fratellastro, una figura che era stata parte della sua vita per anni, ma nascosta agli occhi del pubblico. Questo riconoscimento non solo ha chiarito la situazione, ma ha anche offerto uno spaccato del viaggio personale di Melania e della sua capacità di affrontare le rivelazioni che accompagnano una vita sotto i riflettori. Alla fine, la rivelazione del fratellastro segreto di Melania serve come un ricordo toccante che dietro la facciata di fama e potere si nasconde un arazzo di esperienze umane, alcune nascoste, altre rivelate, che plasmano le vite delle figure pubbliche in modi sia profondi che profondamente umani. Numero 6. Come è iniziata la storia d'amore tra Melania Trump e Donald Trump? Ci sono molti aspetti della vita di Melania Trump che rimangono misteriosi per molti e una delle storie più intriganti è quella di come abbia incontrato Donald Trump per la prima volta. Era il 1998 durante la frenetica e glamour settimana della moda di New York un evento che ha creato le condizioni per un incontro destinato. La città era vivace con le ultime tendenze della moda e l'atmosfera era elettrica mentre l'élite del mondo della moda si radunava per celebrare lo stile e la creatività. In quel periodo Melania era una modella molto richiesta presente agli eventi e alle feste più esclusive della città. Si trovava a una di queste serate circondata da amici e immersa nell'ambientazione vibrante tipica della Fashion Week. Fu in questo turbinio di alta moda e alta società che Donald Trump fece il suo grande ingresso. Nonostante fosse accompagnato da un'altra persona l'attenzione di Donald fu catturata da Melania una testimonianza della sua grazia e fascino. In un gesto audace Donald si avvicinò a Melania senza farsi scoraggiare dal tabù sociale di chiedere il suo numero di telefono mentre era in compagnia di un'altra. Melania sempre attenta alle sottigliezze delle interazioni sociali scelse di non fornire il suo numero. Invece optò per uno scambio più discreto accettando i dettagli di contatto di Donald. Questa decisione non fu solo una questione di etichetta fu una mossa strategica che le permise di mantenere il controllo della situazione. Nei giorni successivi Melania riflette sull'incontro. La sua decisione di contattare Donald segnò l'inizio di una corte che rapidamente si trasformò in qualcosa di più profondo. Man mano che iniziarono a frequentarsi la connessione tra loro crebbe un mix di ammirazione reciproca e esperienze condivise che preparò il terreno per l'affetto. Secondo Melania non si trattava semplicemente di una crescente inclinazione ma di un innamoramento rapido e profondo. La loro storia d'amore fu una danza di due anime che si incontravano sullo sfondo di una città che non dorme mai. una città che assistette allo sviluppo di una storia d'amore destinata a diventare una parte importante dell'attenzione pubblica. La loro relazione nata in un momento inaspettato sarebbe diventata un aspetto definitorio delle loro vite. È un promemoria che a volte i capitoli più significativi delle nostre storie di vita possono iniziare con una semplice domanda un incontro casuale e il coraggio di fare un salto nel buio. Numero 5 Il figlio di Melania ha un piano tutto suo. Nel cuore dello skyline di New York sorge la Trump Tower un magnifico grattacielo che ospita uno spazio davvero unico. Questo spazio è niente meno che il dominio personale di Barron Trump il figlio amato di Melania e Donald Trump. Non si tratta di un piano qualsiasi. È un rifugio curato con attenzione progettato per soddisfare le esigenze e i desideri di un giovane cresciuto in un mondo di lusso senza pari. Melania nel suo ruolo di madre devota ha scelto di adottare un approccio pratico alla genitorialità evitando deliberatamente la via tradizionale di assumere dell'etate. Si è dedicata completamente all'educazione del figlio ponendo priorità nella creazione di un legame forte e affettuoso con Barron. Il suo impegno costante è guidato dal profondo desiderio di garantire che l'infanzia di Barron sia avvolta dal calore dell'amore e delle cure materne. Riconoscendo il ruolo cruciale che l'ambiente gioca nello sviluppo di un bambino Melania ha fatto in modo di creare un santuario all'interno della loro lussuosa residenza pensato per le necessità di Barron. Gli ha concesso la libertà di un intero piano una tela bianca per la sua immaginazione giovanile. Qui Barron regna sovrano circondato da tutto ciò che ama. L'arredamento riflette la sua affascinazione per il cielo con aerei e elicotteri che decorano il suo spazio personale testimoniando i suoi sogni di volo e avventura. L'attenzione meticolosa di Melania ai dettagli si estende anche agli aspetti più intimi dell'ambiente di Barron. Ha condiviso le preferenze di Barron per la semplicità del bianco nella biancheria, un contrasto netto con i colori vivaci che adornano il resto dei suoi spazi. Questa predilezione per le coperte e la biancheria bianche offre uno spaccato delle preferenze personali di Barron fornendo un senso di tranquillità in mezzo a un mare di colori. La creazione di questo piano dedicato va oltre il semplice indulgere. È una profonda incarnazione della filosofia genitoriale di Melania, a filosofi radicata nell'amore, nella devozione e nell'impegno incrollabile di offrire a Barron un ambiente nutriente e arricchente in cui crescere. Numero 4 La scelta di Melania di restare fuori dalla campagna elettorale Durante la intensa e mediatica campagna presidenziale di Donald Trump molti si sono chiesti perché Melania Trump fosse assente dal palcoscenico politico. Mentre i suoi figli erano attivamente coinvolti nella campagna Melania ha preso una decisione deliberata e riflessiva di restare lontana dai riflettori. La sua scelta era profondamente personale e guidata da un forte senso di responsabilità verso la sua famiglia. La decisione di Melania di non partecipare alla campagna elettorale non era dovuta a una mancanza di interesse per la politica. Infatti ha espresso il suo coinvolgimento con le questioni politiche in privato. Tuttavia crede fermamente che il suo ruolo nell'arena politica pubblica sia secondario rispetto a quello del marito. Le sue priorità erano concentrate sul suo ruolo di madre e sulla creazione di un ambiente stabile e nutriente per suo figlio Barron soprattutto in un periodo tumultuoso per la loro famiglia. Scegliendo di restare a casa mentre il marito era in campagna Melania ha fatto una scelta consapevole che rifletteva il suo impegno incrollabile verso la famiglia. credeva che la sua presenza a casa fosse essenziale per dare a Barron un senso di normalità e un rifugio lontano dagli occhi del pubblico. La dedizione di Melania a essere presente per suo figlio durante questo momento cruciale parla molto dei suoi valori come madre e del suo impegno profondo verso la famiglia. In un'epoca in cui il coinvolgimento politico spesso occupa il centro della scena la scelta di Melania di dare priorità alla famiglia rispetto alle apparizioni pubbliche trasmette un potente messaggio sull'importanza di mantenere un nucleo familiare solido specialmente di fronte a un'intensa scrutinio pubblico. Alla fine la decisione di Melania di restare fuori dalla campagna elettorale non era solo una questione di evitare apparizioni pubbliche era una scelta deliberata radicata nei suoi valori familiari profondamente sentiti e nel suo impegno incrollabile a essere presente per suo figlio durante un momento cruciale delle loro vite. Le sue azioni parlano chiaro sulla forza di carattere e sull'importanza di mettere la famiglia al primo posto. Numero 3 Melania è stata una modella di lingerie Il percorso di Melania che da una piccola città della Slovenia è arrivata alle capitali della moda globali è decisamente straordinario. La sua carriera nel mondo della moda è iniziata molto presto. A soli 5 anni Melania mostrava già una grazia e un fascino naturali che sarebbero poi diventati il suo marchio distintivo. Fu in quegli anni formativi che attirò l'attenzione di Stan Eierko un fotografo rinomato che riconobbe il suo potenziale e la indirizzò verso la fama. Man mano che Melania cresceva e diventava una giovane donna la sua carriera fece un grande balzo avanti quando firmò con una prestigiosa agenzia di moda a Milano. Questo momento cruciale non solo segnò l'inizio del suo percorso professionale ma aprì anche le porte a un mondo di opportunità nell'industria della moda altamente competitiva. Da quel momento in poi la vita di Melania divenne un turbine di servizi fotografici di alta moda e sfilate spostandosi tra le iconiche città di Parigi e Milano. In mezzo al glamour del mondo della moda Melania attraversò anche una trasformazione personale. Abbandonando il cognome di nascita Knavs adottò l'identità più cosmopolita di Knavs un gesto simbolico che rifletteva la sua evoluzione da giovane sognatrice a donna elegante e sicura di sé pronta a lasciare il segno sulla scena globale. Sebbene il portfoglio di Melania includesse una vasta gamma di incarichi di moda fu il suo lavoro come modella di lingerie a distinguerla veramente. In questo ruolo lei emanava un'incomparabile sicurezza ed eleganza catturando il pubblico con la sua compostezza e il suo fascino. La sua capacità di trascendere le semplici fotografie e lasciare un'impressione duratura sugli spettatori parlava chiaro del suo talento e del suo carisma. Oltre alla facciata scintillante dell'industria della moda la carriera di modella di Melania fu un periodo di profonda crescita personale e scoperta di sé. Numero 2 Melania Trump è una poliglotta nota. Nel mondo delle abilità linguistiche Melania Trump si distingue come un esempio luminoso di maestria multilingue. Oltre al suo ruolo di first lady lei porta in primo piano una notevole abilità che la differenzia da molti altri la sua fluency in ben cinque lingue diverse. Questo talento unico include l'inglese il tedesco il francese il serbo e la sua lingua madre lo sloveno dimostrando una profondità di comunicazione che trascende confini e culture. Immaginate di poter conversare con facilità in cinque lingue diverse navigando senza sforzo tra le complessità di ciascuna. La destrezza linguistica di Melania va oltre le semplici parole. Incarna una comprensione delle culture diverse una connessione profonda con le persone a un livello più intimo e una navigazione fluida delle complessità della diplomazia internazionale con grazia ed eleganza. La capacità di Melania di comunicare in più lingue è particolarmente degna di nota dato il palcoscenico globale su cui opera. In un mondo dove la comunicazione efficace è fondamentale le sue competenze diventano inestimabili. le consentono di interagire con leader mondiali diplomatici e cittadini di vari paesi senza gli ostacoli che le barriere linguistiche spesso presentano. Le sue capacità multilingue non solo facilitano la comunicazione ma dimostrano anche un profondo rispetto per la diversità delle lingue e delle culture globali. Inoltre la competenza di Melania in queste lingue riflette il suo percorso personale un viaggio iniziato nella sua Slovenia natale attraversato l'Europa e infine la condusse a un ruolo di rilievo nel panorama politico americano. Ogni lingua che parla racconta una storia di un capitolo specifico della sua vita servendo come testimonianza della sua adattabilità e del suo entusiasmo per abbracciare nuove sfide. Attraverso le sue abilità linguistiche incarna l'essenza di una cittadina globale superando confini e favorendo connessioni significative attraverso i continenti. Numero 1 La dichiarazione di moda infamante di Melania Trump Durante il mandato di Melania Trump come First Lady c'è stato un episodio particolare che ha attirato notevole attenzione per la sua natura controversa. Questo episodio riguardava una scelta di moda specifica fatta da Melania durante una visita a un rifugio per bambini immigrati in Texas. Il capo d'abbigliamento che scatenò un ampio dibattito e discussione era una giacca con la frase I really don't care do who questo capo apparentemente innocuo scatenò una tempesta di polemiche portando a un'intensa scrutinio e sollevando interrogativi sul messaggio sottostante e le potenziali implicazioni della dichiarazione di moda della First Lady. Il momento dell'incidente fu particolarmente significativo poiché avvenne in mezzo a una conversazione nazionale sulla politica dell'immigrazione. Stephanie Grisham nel suo libro dedicò un intero capitolo a svelare il mistero dietro la giacca. Come molti altri Grisham si trovò perplessa dalla decisione di Melania di indossare un capo di abbigliamento così controverso soprattutto considerando la natura delicata della sua visita al rifugio per bambini. Il contrasto tra il messaggio sulla giacca e il fine compassionevole del suo viaggio lasciò molti a chiedersi se fosse stato un errore involontario o un messaggio deliberato e se intenzionale quale fosse il pubblico destinatario. Il racconto di Grisham pur illuminando vari aspetti dell'incidente non spiega definitivamente il ragionamento di Melania dietro la scelta dell'abbigliamento. Suggerisce che forse la first lady sottovalutò il possibile contraccolpo o semplicemente non si preoccupò di come il pubblico avrebbe interpretato la sua dichiarazione di moda. Questa mancanza di chiarezza servì solo a alimentare la frenesia mediatica con immagini di Melania che indossava la giacca che circolarono ampiamente e il pubblico che richiedeva una spiegazione per la sua scelta di moda controversa. In mezzo alla crescente controversia emersero rapporti secondo cui Melania aveva contemplato un gesto simbolico per contrastare la stampa negativa. Il gesto proposto prevedeva di modificare il messaggio sulla giacca in I really do care rimuovendo la parola don't. Tuttavia questa idea fu rapidamente scartata dal suo team che la considerò poco pratica o forse troppo tardiva. Le ripercussioni della saga della giacca continuarono anche dopo il ritorno di Melania a Washington. Secondo Grisham il presidente Trump reagì con frustrazione e sbigottimento interrogandosi sul razionale dietro la scelta dell'abbigliamento di Melania. In risposta Melania mantenne un sorriso sereno mentre era ancora vestita con la giacca aggiungendo un ulteriore strato di mistero al dramma in corso. La controversia intorno alla dichiarazione di moda infamante di Melania Trump non svanì semplicemente con il tempo. Iniziò discussioni più ampie sul ruolo delle figure pubbliche e sulla loro responsabilità nel comunicare messaggi attraverso le loro scelte inclusa la moda. l'incidente sollevò anche interrogativi sul livello di riflessione e considerazione che va nelle scelte di guardaroba delle figure pubbliche specialmente in contesti delicati come le visite ai rifugi per immigrati. Quali di queste rivelazioni trovi più intriganti? C'è qualcosa su Melania Trump che abbiamo tralasciato? Condividi con noi nei commenti qui sotto. Grazie per aver guardato amici. Per ulteriori rivelazioni emozionanti clicca ora sul prossimo video che appare sullo schermo. Rimarrai sorpreso.